Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati, salve, bentornati nella mia cucina, è un piacere rivedervi sempre numerosi, il cameraman non è cambiato, il cameraman posso dire che l'unica rosa non abbiamo cambiato, esatto, mi inquadrata questa, questa fa è dritta grazie, si, chi ci veniva e credeva che arrivavamo fino alla seconda stagione, un applauso a tutto lo staff di Shafi Mabiele, grazie ragazzi, mi inquadri fuori, mi sposto, dovresti ricordare una stagione, dovresti ricordare, grazie a tutto lo staff, grazie Manolo, mi rompevi le palle ogni volta che mi venivano i video, oddio, era al camera, mi hanno fatto i segni di fumo, benvenuti nella mia cucina, in cucina Shafi Mabiele, presentazione, seconda stagione, già siamo a settembre, siamo alla seconda stagione, in camera non si sa che è prontola, ecco, già ci siamo, solo se si sente il suo rumore, ecco, era la lavatrice, alla camera alfa, camera, mi hanno fatto molti cambiamenti, uno di questi era la lavatrice, che infatti ce ne siamo resi conto che ognuno, che era un problema, lavava la roba, le tovaglie, lavavano a mano, qualcuno lo portò a casa, per ricordarsi, che si arruinavano il casino, esimo questo, non è zitta, sto registrando, c'ho la ricorda, non è sembrata, c'è, finalmente alfuno dei cambiamenti era la lavatrice, purtroppo qui in studio non la avvano a collata, così quindi dovrei presentarò un po' qui, ogni tanto se lave, una cosa in comoda per tutto lo staff per la gioia di marzia sono ancora con lei come sponsor e come fornitrice quindi vi invito a tutti i frutti di marzia tutti i frutti euro montagnola largo brocchi 24 ora arriva tutto, ci sono tante novità in questo mese, in questa seconda stagione e siamo diventati ancora più popolosi, più grandi come famiglia perché è giunta altro staff, ora vi spiego, ora vi dirò le novità che Chef Gabriele ha portato a questa seconda stagione ok, allora la prima novità è la lavatrice che il cameraman non inquadra che usci a frega il cavolo quella andrà pure, forse per la resta stagione la lavatrice ci interesserà di più ho chiesto di non inquadrare, questa è la seconda stagione Ciccio non è la lavatrice, ci sono pittura che non ci sarebbe quella forse la utilizzeremo per la resta stagione ma lasciamo la stagione, la calma la resta stagione allora io parliamo delle novità di settembre allora si una novità a sapere qual è esatto la lavastoviglie alleluia si detto più piatti la nuova a mano la lavastoviglie è una piccola se persone si è coperti scusami te calchi là questo fa un video vabbè la lavastoviglie ci sono stanno infatti con la lavastoviglie sarà base di altri video questa è la stagione che era il cameraman di un quaderno in cui i tortelli abbiamo preso da Marzia e di un quaderno per me vedete questi giugnellini già scelto sono sempre i solidi un po' da me tutto a posto facciamo un quaderno guarda sono sempre quelli della prima stagione allora questi l'avevo preso con i punti da Marzia questo mese quindi da settembre in quale ora io già ho parlato con Marzia abbiamo già deciso che faremo lei farà e poi le farò pubblicità sulla pagina sui social nei video un'altra cosa dei punti non saranno cortelli non saranno cortelli non sappiamo quello che ci sta organizzando poi ci farà sapere anche a noi stavo dicendo prima dello staff che si è allargato esatto 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 caprile è diviso in due ruoli uno una novità che non è tanto novità è che io sarò sempre Ryan nella mia cucina quindi ci sta lo staff che è successo niente è successo niente ci sarà sempre oh scusate colpa mia colpa mia guarda me ci sarà sempre lo staff della cucina quello che abbiamo avuto nella prima stagione ci sarà sempre lo stesso chef che cucina per voi guarda me il mio momento lo sarò sempre io che cucinerò e poi mi sono buttato in un altro ruolo che il camera non mi pare mi si è spostato che ora mi pare la testa non si è parte da tutto fare un fattone 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 insomma si ci siamo e questo è prima poi ci sta il secondo ruolo ecco cosa pericolo ci lasciamo ci sta ci sta lo staff classico io classico dei miei soliti video di cucina con nuove nuovissime ricette e poi ci sta agli astu altro pezzo di staff con lo stesso camera purtroppo quello non abbiamo cambiato o niente ragazzi che ho trovato comunque ci stanno altri cortelli ecco questi sono i cortelli ora il camera non torna giù in cuore a me ci stanno prendendo i video i video guida che sono i video guida facili facili insieme all'altro staff faremo video guida e vi aiuterò sulla lavastoveglia su come caricarla su come funziona sui programmi e sul detersivo ragazzi spero che questa presentazione della pagina vi sia piaciuta vi invito le pagine le pagine non sono cambiate noi sono invariati vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina facebook in cucina in cucina chef gabriele iscrivetevi ai miei canali youtube google plus cucina chef gabriele twitter è sempre lo stesso come partita la scarpa twitter è sempre lo stesso in cucina chef g in cucina in cucina in cucina chef gabriele tutto attaccato seguiremi anche su instagram qui è una chef gabriele allora in quale cameraman ragazzi di chef gabriele amici fan rompigoglioni miei cari amici soprattutto e dalla lavastrice il cameraman e lo staff vi auguriamo buon divertimento in questa seconda stagione ci vediamo se vi vorrà in un prossimo video ricetta offrire in un video in un tutorial oppure in un video una video guida ragazzi torno dalla mia relazione ci siamo attenzione attenzione tutti da chef gabriele chef gabriele sta rientrando ciao ragazzi